Oggi migliaccio dolce, un dolce tipico di carnevale della tradizione partenopea. In un pentolino mettiamo a scaldare mezzo litro di acqua, mezzo litro di latte, 25 grammi di burro, scorzetta di arancia e limone e un pizzico di sale. Mescoliamo per far sciogliere il burro, poi quando sarà caldo eliminiamo le scorzette di arancia e limone e verseremo il semolino. Cuociamo finché non si addensa, adesso lo trasferiamo in un altro contenitore per farlo raffreddare. Adesso montiamo 4 uova con 200 grammi di zucchero, aggiungiamo buccia grattugiata di arancia, limone, cannella in polvere e due bustine di vanillina. Mettiamo anche una fialetta di fiori d'arancio, aggiungiamo la ricotta. Il semolino è freddo quindi siamo pronti per incorporarlo alla nostra crema. Alla fine dobbiamo ottenere un composto liscio e senza grumi. Liglia imburrata di 28 cm. Forno statico 180 gradi per 60 minuti. Appena sfornato ancora caldo, cospargiamo di zucchero semolato. Eccolo qui! Mmm!